Bella boys, vi osso la prima win di questa season veramente qualcosa di assurdo, sta season è qualcosa di assurdo, cioè non so se dire è una cagata assurda, è veramente assurda Ci ritroviamo in modalità esotica, perché a un certo punto abbiamo deciso modalità esotica, abbiamo finalmente capito il meta, che il meta sarebbe prendi un veicolo, se no pidi, muori, è inutile Per il resto ragazzuoli, ci troviamo in questa situazione che io letteralmente sono andato un attimo fuori safe a trovare qualche cura che non avevo niente, sono stato pullappato fuori safe, sono morto e il signorale dopo ci ostà Un critici penso io, portandosi a casa la prima win di questa season, che sfortunatamente non ci ha dato l'ombrello perché ci sono stati problemi, vedremo se ce lo darà in questi giorni Come sempre vi ricordo che siamo live sul mio canale Viola, che trovate il link in descrizione, ieri abbiamo fatto una maratona in merito a questa nuova season, veramente tanta roba Vi dico, stavamo in terzetti perché c'era anche il mio best compare esotico in compagnia, perché giustamente quando si entra in modalità esotica lui non può non mancare Per il resto ragazzuoli, ci troviamo in questa situazione che è la season nuova e tanta roba, figa, ci sta un botto, ci sono un bordello di novità Se per qualunque cosa vedrò, se ne farò un video in merito per la nuova season dove vi parlerò di tutto Per il resto ragazzuoli, non vi rubo altro tempo, vi ricordo come sempre, se volete supportarmi, se volete farvi due partite col Dogulus Basta che andate nel negozio oggetti di Fortnite ed inserite il mio codice crazydog-ttv Io regà vi ringrazio veramente del supporto, per il resto lasciate anche un bel like, commentate facendomi sapere cosa ne piacere di questa nuova season Ed iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti, anche perché in questa nuova season faremo un bel po' di challenge Le abbiamo già fatte in questi giorni in live, che vi ricordo se volete passare trovate il link in descrizione Trovate anche il calendario, visto che il martedì e il giovedì ragazzuoli siamo in live dai virtual voyagers Come sempre, link in descrizione Per il resto io non vi rubo altro tempo, vi lascio direttamente al video E vi auguro una buona visione e ci si becca nel video Bella boys! Poi che non morite, la campanella in casa, ma ti fermo Non morite, ehi Eh no, la cassa scala Non ci ho pensato, ma io dovevo prendere la campanella Puggini un attimo, no? Ma mamma mia, frate, dalle esotico, ti devi fatta umane Magari, la skin non ci ho messo e fatta umane Che è stata quella skin che ho testo? Arrivo Sto dando già una skin questa qui Ma che cazzo? Ma che cazzo non ho messo sta cazzo? Ma io voglio un'altra volta i fulmini Puggini un'altra volta le catene di A Ma perché erano, almeno, cioè, sincera erano, 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 erano fastidiose, quelliù Cioè Almeno quelle le riuscivi a scampare, poi tre fulmini e rimanevano fermi I pugni, come cazzo fai? I pugni di stai zitto e subisci Stessa roba con il lanciagranate Eh, che di fa? Balestra, c'è questa roba Cioè, almeno quella balestra dovevi rimanere per un muto ricaricare Ehi, perché ti ho mostrato d'attora? Ho scelto me la balestra, mi chiamano, eh? Io mi hanno sparato nel culo, mi sbaglio Sì, 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 pure a me Perda Perda, regà Perda, regà Eh, che mi ha aiutato, non mi ha aiutato, non mi ha aiutato Spada Ma la cosa mi ha fatto? No, non ti ho fatto scrivere Se non ti ho fatto Raga, non mi ha a leggere Un attimo Mi ha lasciato da solo di te e te E io sono un attimo Chi si sa Andiamo qua Andiamo qua Siamo qua Allora Molto una cosa Grazie Molto una cosa Grazie un bel mato allaggando si comunque con le lacchie fa non fanno laggare di più morto ma no in gola ma io per me la riempio davanti basta adesso come sparo io mi aspettavo fort ride on sale fort l'ha fatto prima di fort l'epicamers sta più avanti di tutti ragazzi questa cosa cammina nell'acqua ma se vuoi buonasera non si è capottato 25 guarda allora è morto è morto è morto per us non è morto, non è morto, è morto ah ah sembra che andiamo a cercare qua oh è morto 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 e il fine non ho è morto io l'aiuto cosa hai special momento ma non lo vuoi stava carlin con raffaello ah ma che pare se ne avevo messo un video ma si spavano un po' attimo, c'è il medico che ne va le schede per lei ma le prende ma bisogna schede di avere ma se ne va chi si forza e baby abbia la mano, non vedo la prende non vedo la prende non c'è quel merda non vedo la prende sta a sinistra sta a sinistra vabbè c'è il vero viola quello mio lo fai 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 sto a prendere le armi subito proprio stavo troppo basso io spero che sta più di me C'è una macchina C'è una macchina Scusate Ma Non ho capito Ma Stai No Stai la gente qua ragazzi Ma questa camera son tutti Fingami la setta Ma perchè c'è la camera son tutti L'ho visto proprio C'è tu hai capito Pignorale Ma chi ti non fa Si Ok, è capito, ok. C'è un motel di senzì, ah! Poi, 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 poi... Ok, ok, ok. No! Diamo un gesto. No! Mannaggia San Luido. Guarda comunque che accelerazione che ha c'ha sta macchina. Matti, lei va a... Ad scoppiare. Non si muovete, non si resta 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 Vado, l'ho sbagliato No, 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 signorale Via, via da qua Via da qua Allora, guarda, guarda. e stavo ancora in regolazione no build è per questo capito ma non c'entrava quali da dietro ce l'ho anzi nella nostra agenda qua sopra che vuoi da dire ad entrambi guanci a chi le bianne a chi le bianne a chi le bianne non c'è una mezza dura ma che è sti cosi? ah ma di come morano? ti ricordi quei fiori? lei l'ha visto quando abbiamo fatto le due zone? si si rappresano, non capito che finisci 1v1v2 1v2 1v1 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 2v1 2v1 1v1 2v1 2v1 3v1 7v1 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 8v1 9v4 7v1 3v1 8v1 10v1 9v4 10v1 Grazie a tutti.